se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade è colorata di rosso, giallo o verde è il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi è gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo, c'è e basta è la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione quella per riprenderci lo spazio pubblico e per fare questa rivoluzione abbiamo deciso nella nostra piccola web tv di utilizzare uno strumento folle e innovativo quale Skype e di chiamare persone con le quali abbiamo voglia di chiacchierare e fargli un po' le domande che abbiamo voglia di fare e di discutere un po' di alcuni temi che ci sembrano importanti e oggi abbiamo un ospite che non avremmo mai creduto di avere qui con noi che è Ascania Celestini che ringraziamo grazie a voi ciao Ascania se lo vuoi presentare un po' come se dovessimo presentarlo non so, cosa spieghiamo? esatto, beh Ascania Celestini guardando anche solo dal suo sito internet ha fatto tutto nel senso che è autore di teatro partecipa al programma della Dandini sulla set The Show Must Go Off ha partecipato ovviamente al programma precedente della Dandini sulla Rai ha scritto un libro ha inciso un disco ma come l'ha anche definito la russa in un'ultima puntata sulla set The è un giornalista che non verrebbe preso neanche nel miglior avanspettacolo quindi Ascania se vuoi aiutarci un po' a definire chi sei e se vogliamo usare questo termine cosa sei guarda io iniziare qualche anno fa cercando di studiare antropologia e quindi facevo un lavoro diciamo di ricerca sul campo quindi di raccolta delle storie inizialmente storie legate alla tradizione orale e quindi soprattutto a quello che è il grosso della letteratura di tradizione orale che è la fiaba e poi pian piano mi sono spostato invece su diciamo su un genere differente che è quello del racconto personale insomma della storia di vita e poi sempre stando all'università ho cominciato a fare teatro e ho pensato che c'era diciamo un'oralità in comune o comunque erano due differenti maniere di pensare l'oralità che però potevano essere che c'erano una relazione insomma che potevano essere messe in relazione l'oralità della ricerca sul campo e quindi della raccolta di materiale orale di storie sostanzialmente non solo e l'oralità invece della messa in scena o della loro rimessa in scena riportare in scena dei materiali che appunto nascono nell'oralità e attraverso il teatro restano in una dimensione d'oralità quantomeno di accadimento insomma perché il teatro è una cosa che noi scriviamo che costruiamo che frequentiamo però il teatro è soprattutto una cosa che succede il teatro è quella cosa che succede insomma tra l'inizio e la fine dello spettacolo poi chiunque può scriverlo o pensarlo in maniera differente però poi il teatro è quello e fuori diciamo da quella dimensione lì il teatro è stare a nostra testa insomma sui libri che studiamo detto questo poi chiaramente ho incominciato anche a scrivere insomma le cose che portavo in scena e a lavorare con altre persone soprattutto con dei musicisti e quindi con questi musicisti ho incominciato anche a scrivere delle musiche a pensare a dei racconti che prendessero la dimensione della canzone e la canzone anche ha una sua oralità che è molto insomma la canzone non la leggi poi si sta pure a vedere se comprono libri di canzoni però le canzoni si cantano o si ascoltano cantare da altri quindi anche quell'oralità mi sembrava molto interessante e poi più o meno muovendomi sempre in questo linguaggio mi è capitato di spostarmi su altri settori diciamo su altre modalità di comunicazione che possono essere il cinema il documentario appunto la scrittura letteraria il teatro così però un po' sempre con la stessa idea insomma allora noi guarda abbiamo chiamato questo programma la panchina perché ci sentiamo un po' la generazione dello spazio privato del piccolo di stare a casa davanti al computer davanti a televisione sempre più chiusi e invece noi vorremmo invertire tutto e fare una cosa alla ricerca di quello che è lo spazio pubblico se esiste ancora dov'è che cos'è e chiamiamo te non a caso perché utilizzi e cerchi degli spazi che a noi sembrano più che pubblici sono quelli che sono rimasti dai teatri anche da televisione in un certo senso potrebbe essere del tuo lavoro nei manicomi quello che volevamo chiederti è secondo te cos'è lo spazio pubblico e dove l'hai trovato dove dove lo possiamo andare a cercare ancora ma io penso che più che cercare degli spazi pubblici e poi e poi gli spazi soprattutto quando parliamo di qualcosa che che può essere condiviso con altri non è solamente uno spazio insomma è anche un tempo insomma è un è anche un come posso dire una modalità insomma di pensare lo spazio e il tempo per noi sembra così importante insomma il tempo no per ec diceva le persone girano con l'orologio oggi non più perché magari ce l'hanno sul telefonino su un altro aggeggio però tutti hanno l'orologio e non vediamo mai qualcuno che gira per le strade con la bussola insomma ecco oggi gli orologi ce ne stanno meno perché l'orologio sta un po' ovunque soprattutto appunto sui telefonini e dei bussole continuiamo a non vedere persone che girano con la bussola insomma se no nei boschi però c'è una cosa differente che è il navigatore ed è secondo me proprio la cifra insomma di questi ultimi anni insomma di questa un po' perdita della non tanto degli spazi pubblici ma perdita proprio del bisogno di pensare che possono esistere degli spazi e dei tempi pubblici il navigatore è quella macchinetta che te porta da un punto ad un altro punto tutto quello che sta in mezzo non è importante ecco la maggior parte dei nostri spostamenti funzionano in questa maniera la metropolitana che da questo punto di vista è stato un disastro culturale è proprio la negazione dello spazio che sta in mezzo c'è solamente la fermata nella quale mi infido sottoterra e la fermata dalla quale esco e noi soprattutto in Italia abbiamo questa ammirazione sfrenata per i metropolitani di alcune città Parigi Londra perché diciamo guarda che ramificazione straordinaria in qualsiasi punto della città può finire poi in qualsiasi altro punto della città ecco se noi mettiamo insieme la metropolitana con quelle aree quelle pedonali mettiamo insieme appunto due disastri degli urbanisti del novecento aree pedonali che sono pensate da una persona per tutte le altre e qui non è più uno spazio pubblico anche se tu lo regali alla gente la gente non lo vedrà mai come come un linguaggio col quale puoi interagire ma neanche una lingua che parla la mia lingua e anche se lì me la riempi le panchine le persone non ci andranno vediamo in molte periferie non soltanto nelle periferie ma nelle periferie più evidenti dove gli abitanti di quelle periferie hanno vissuto una deportazione diciamo indotta o coatta e vediamo spesso che che distruggono i parchi giochi che distruggono che che sfregiano le case ecco e oggi fortunatamente molti antropologi da un po' di tempo hanno cominciato a dare una lettura più interessante e profonda però all'inizio si diceva guardate questi qua gli diamo le case e le distruggono le facciamo il parco e gli danno fuoco ecco perché perché non perché non parlano la stessa lingua che parliamo noi è un po' come se ci mettessero davanti che ne so ci mettessero davanti un vigilo urbano che parla solo cinese io sto a Roma e un vigilo urbano che parla cinese che mi dà le indicazioni in cinese non non lo capisco Wittgenstein diceva se potessero parlare la lingua del leone noi non ci capiremmo lo stesso perché perché sono proprio due visioni del mondo completamente diverse due usi due esperienze del mondo completamente diverse perciò lo spazio pubblico non è tanto quello che c'è e soprattutto adesso non è non è soprattutto quello che c'è ma è ma è il bisogno che ci abbiamo allora io ti posso pure dire stanotte c'è la notte bianca la città è tutta tua sì ma poi domani la prossima notte la prossima settimana non puoi pensare che i luoghi ci sia un urbanista che te li regala e quindi te fa questi spazi apparentemente molto belli ma che somigliano drammaticamente a un modellino in scala e quindi tu lo vedi che proprio la pensavo su un pezzo di carta quel luogo ed è rimasto un grande pezzo di carta oppure peggio ancora questi luoghi che sono completamente privati del loro valore di spazio e di tempo sostanzialmente appunto da un punto all'altro della città io prendo la metropolitana e tutto quello che c'è in mezzo non è spazio e tempo ma è un gran rompimento di scatola insomma se potessi avere il teletrasporto come Star Trek lo farei molto volentieri e quindi da qui nasce la cultura dell'alta velocità del treno super veloce del prendiamo per forza l'aereo anche come diceva mio padre per arrivare dal bagno alla cucina perché se posso insomma in qualche maniera affrettare questo spazio come se appunto in mezzo non ci fossero tempi non ci fossero luoghi e non ci fosse la mia vita insomma per cui lo spazio comune è lo spazio di cui ci abbiamo bisogno se non ci abbiamo più bisogno di uno spazio è inutile che qualcuno ce lo dia o che ce lo presenti o che ce lo rubi insomma perché per noi se non sta nella nostra testa e nei nostri bisogni non può sta da nessuna parte continuerei su questo filone sulla tua antropologia dell'Italia che secondo me hai visto e girato in lungo e in largo con il tuo lavoro con i tuoi spettacoli il tuo ultimo spettacolo da teatro Propatria parla proprio della storia dell'Italia però vista sempre da e mi ripeto da punti di vista diversi da quello del carcerato poi hai parlato anche dei manicomi con queste storie riesci sempre a raccontare la nostra Italia con punti di vista molto molto diversi tu come la vedi come come siamo messi da dove siamo partiti e dove e dove arriveremo secondo te come finisce sta storia non lo so penso che purtroppo nessuno sta lavorando serie dal mio punto di vista sono davvero poche persone che stanno lavorando seriamente ad una scrittura diciamo ad una drammaturgia dei prossimi anni noi abbiamo due cose abbiamo un un conflitto insomma che è tra detta in maniera diciamo se vuoi anche vecchia insomma tra tra il capitalismo e l'essere umano cioè quello che che per l'essere umano è c'ha bisogno di tempo per per l'ideologia capitalista e il suo braccio armato che è la finanza invece quel tempo non ci serve appunto cioè l'alta velocità lì già è arrivata comunque sia un treno ad alta velocità dovesse costruire ancora fatto di ferro di sassi di lavoro umano poi una volta che lo costruisci arrivi in tre ore da Parigi a Londra adesso ci siamo detto che se faranno una cosa ottima una scelta buona insomma è quella di scegliere Londra come sede per le Olimpiadi perché così si arriva da Parigi a Londra non so in cinque minuti e quindi c'è questa cultura dell'alta velocità allora nell'immateriale l'alta velocità già arriva arriva molto più velocemente peraltro e quindi tutto quello che per costruire una casa c'è bisogno di un anno però per comprarla e vendere una casa puoi venderla e ricomprarla dieci volte in dieci minuti quindi in un'azienda lavorano cento persone mille persone ma quell'azienda basta capito bastano due pettegolezzi e quell'azienda è quotata sul mercato e fallisce ecco il problema è questo è questo conflitto che c'è tra non la natura umana ma insomma l'antropologia la vita stessa insomma gli individui e il contesto diciamo economico finanziario che ci abbiamo attorno quindi qui o finisce male la finanza il capitalismo o finisce male l'essere umano insomma ma comunque una parte consistente degli esseri umani e i mercati hanno bisogno di risposte immediate hanno bisogno di uno che ci metta la faccia subito perché se arriva a 10 minuti di ritardo succede un disastro e un essere umano invece ha bisogno di molto tempo per fare le cose e questo conflitto qui deve essere almeno affrontato non dico risolto perché è un problema planetario però quantomeno affrontato e perché invece sono molte poche le persone che lo stanno affrontando e sicuramente non le persone che appartengono alla classe dominante insomma quantomeno alla classe dirigente perché loro stanno dando delle risposte alla finanza insomma al mercato a quell'ideologia lì e non stanno dando delle risposte insomma a me che c'è un figlio che c'ha 5 anni e quindi penso a che cosa sarà mio figlio tra 10 anni e 20 anni insomma non penso a quello che cosa sarà mio figlio domani mattina alle 11 insomma oppure quando apre il mercato dei toghi non me ne frega niente e invece invece il mercato è determinante nelle nostre vite insomma allora a me piacerebbe un presidente del consiglio che mi dicesse adesso vi parlo di cosa sarà l'Italia tra 20 anni e lavoriamo per quest'Italia qua l'Italia che ci vuole tra 20 anni vediamo un po' quale sono le infrastrutture che servono davvero e quelle invece di cui non abbiamo bisogno e tra 20 anni ci abbiamo bisogno di un treno una tratta super veloce che sventra la Val di Susa in Piemonte ma magari sì insomma forse bisognerebbe chiederlo ai cittadini che ci abitano lì visto che teoricamente siamo ancora in una democrazia anche se in Italia abbiamo un governo formato da persone che non sono state votate nessuno da noi cittadini c'è questa momentanea sospensione commissariamente del nostro paese però ecco io vorrei un ministro della cultura che facesse i calcoli sull'Italia che sarà tra 20 anni e quindi cominciamo a costruirla e se un ministro del lavoro o del welfare che incomincia a pensare a che cosa sarà il lavoro tra 20 anni e quindi ci mettiamo subito a costruirlo questo paese purtroppo insomma non ci abbiamo è come se c'essero sempre bisogno di una guerra che distrugge tutto e quindi per forza le cose dobbiamo camminare lentamente no scusa se ti ho interrotto solo che stavi parlando parlavi di tutte queste persone il presidente del consiglio il ministro allora tu parli sempre del piccolo presidente del piccolo paese e io quello che ti voglio chiedere è pensi che la soluzione potrebbe essere un grande uomo o in un paese ancora piccolo oppure sono piccole persone oneste non lo so che secondo te io spero che non venga un grande uomo neanche uno neanche uno bravo insomma perché l'idea di affidare tutto nelle mani di un'unica persona peraltro appunto già questa sospensione insomma dei termini democratici in queste settimane il nostro paese già fa un po' paura però insomma nel passato l'abbiamo vissuta questa cosa prima perché nonostante un risorgimento repubblicano bello insomma così l'unità è stata fatta con i monarchi e poi perché ci abbiamo avuto insomma un ventennio atroce insomma questo per cui e lì era mettere il paese nelle mani di una persona che poi non è mai solamente le sue due mani ma insomma le mani di un gruppo che dirige il paese e normalmente ci troviamo in situazioni disastrose insomma perché anche semplicemente per il fatto che la maggior parte dei cittadini si sentono completamente dei responsabilizzati no? è una cosa terribile anche quando i governanti ci dicono vabbè adesso però lasciateci lavorare cavolo tu stai lavorando sulla mia vita la vita del mio figlio insomma l'aria che respiro l'acqua che bevo non te lascio lavorare insomma è come se io andassi al ristorante il cameriere mi dice faccio tutto io poi si stanno anche le trattorie dove uno si fida e allora io insomma questi governanti mi fiderei poco mentre invece credo molto molto di più insomma in tanti piccoli gruppi che si auto-organizzano che pensano che la democrazia fondata sulla delega abbia fatto il suo tempo che ci dobbiamo muovere lentamente non sappiamo bene come però verso una gestione auto-organizzata della vita insomma che ci riguarda direttamente anche perché poi quando nascono questi gruppi non sono mai isolati anche se nascono per motivi territoriali capito a Vicenza contro la costruzione della base militare americana poi quelle persone lì fanno anche un lavoro di autocoscienza di auto-formazione politica e dopo un anno due anni tre anni cinque anni che ti occupi della base militare americana e cerchi di fermare insomma questo questo invroglio e poi incominciai a occuparti anche d'acqua pubblica incominci a capire che cosa ha fatto il partito per il quale hai votato fino alle elezioni precedenti e che forse quello che ti dice adesso non è quello che diceva sei mesi fa e sei mesi dopo dice già un'altra cosa allora dici non posso sì vabbè te la do pure stradelega a governare la mia città però devo essere io in prima persona che mi occupo direttamente del problema che mi riguarda allora incominci ad avere una io in quella politica credo in quell'altra quella fatta insomma appunto dalle aziende dei partiti che in quella lì si crede davvero poco poi che ci siano anche delle brave persone anche tra di loro insomma come diceva mi nonno è buono e cattivo sta da tutte le parti può capitare pure che in un partito ci siano brave persone va bene allora per concludere ti facciamo partecipare a un gioco che noi facciamo che è un po' il nostro motto diciamo che è il nostro gioco di responsabilità civile se lo chiamiamo possiamo chiamarlo così si chiama fallo per me cioè tutti gli ospiti alla fine del programma devono chiedere un'azione concreta al vicino perché abbiamo ancora questa idea che forse è sbagliato anche che chiamiamo gioco però è questa nostra idea che se ognuno di noi fa un'azione concreta e lo chiede al vicino di farla forse creiamo delle valanghe e cambiamo un po' qualcosa quindi fallo per me che cosa? fallo per Ascanio Celestini per me qualcosa che io faccio chiedere di fare al mio vicino chiedere agli altri di farlo per te ah per me ah beh per esempio una cosa diciamo piccola però non è anche troppo piccola la spesa con i sacchetti di stoffa portatevi da casa all'inizio dell'anno passato l'anno scorso quando è diventato obbligatorio insomma o almeno sembrava fosse obbligatorio per i negozianti dare i sacchetti quelli in in mais insomma in mater B completamente riciclabili beh insomma io che già da un po' vado in giro con le sacchette ma anche semplicemente perché tutti questi sacchetti di plastica non so proprio dove metterli dentro casa se li riutilizzi però per l'immondizia quella indifferenziata va bene però insomma c'è sempre tanta roba e quindi dopo un po' l'ortolano il fruttivendoro mi ha detto ma lo sai che viene pure un altro quei sacchetti suoi non sei mica solo e dopo un paio di mesi mi ha detto adesso sei rimasto solo tu proprio il tracollo totale allora già incominciare ad immaginare che che abbiamo bisogno del dentifricio non del del cartoncino del pacchetto in cui viene infilato della 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 bustina dei plast e tutte quelle cose lì insomma già ecco pensare che che quella è solo immondizia che noi compriamo immondizia e quindi quantomeno mettere un freno a questa immondizia già sarebbe qualcosa insomma anzi secondo me sarebbe molto perché poi nella maggior parte degli alberghi ristoranti autogrill bar non si fa raccolta differenziata e sono luoghi dove si produce una montagna de cart e de plastica che sono completamente riciclabili certo benissimo Toma vuoi dire qualcosa mi verrebbe da chiederti un fallo per gli ascoltatori di Caffe News raccontarci una storia ma guarda c'è una storia che conoscevo quando sono bambino che è la storia della Santa Minanta Buffanta Con ciclo un canta con filforunfanta e un bel giorno insomma dalla Santa Minanta Buffanta con ciclo un canta con filforunfanta arrivarono 3 cani Minani Buffani con ciclo i cani con filforunfani e chiesero alla Santa Minanta Buffanta con ciclo un canta con filforunfanta delle polpette di sorcio, di dopo, di ratto, minato, bufato, con ciclocato, con fifrofato, la santa, minato, bufato, andò dentro al pozzo, minato, bufoso, prese tre sorci, minoreci, bufocci, ne fece polpette, minette, bufette, le messe a rifreddare calda e calda sul tetto minetto, bufetto, ma arrivò il gatto, minato, bufato, con ciclocato, con fifrofato, che si mangiava le bufette, minette, bufette, con ciclocchette, con fifrofette. Quando che tornarono i cani, minani, bufani, con ciclocchetti, con fifrofani, gli disse la santa, minato, bufato, con ciclocchetto, con fifrofatta, che il volpetto si era la mangiata del gatto, minato, bufato, con ciclocchetto, con fifrofatto. Allora i tre cani, minani, bufani, con ciclocchetto, con fifrofatti, gli disse la santa, minato, bufato, con ciclocchetto, con fifrofatto, di fare altre colpette di topo, di ratto, di sorcio, minoreci, bufocci, con ciclocchetto, con fifrofatto. Allora la santa, minato, bufocci, con ciclocchetto, con fifrofatto, ne fece polpette, minette, bufette, con ciclocchetto, con fifrofatto, e le mette sul tetto Sgozzarono la santa, penata buffanta, col ciclo recata, col fifronfanta, insomma la santa alla fine morì, col ciclo ronchì, col fifronfì, insomma alla fine la santa morì. Meraviglioso, grazie. Questa la usi per sbarazzarti di quelli che ti chiedono le storie, come noi. È una tattica. Va bene, allora noi siamo a posto così, grazie mille, è stato davvero un piacere. Grazie a voi. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e chi ci segue che possono scriverci al nostro indirizzo email, che è, Martina ricordalo tu, perché io in questo momento non lo ricordo. Grazie, redazionechiocciolachiaffnews.it, per tutte osservazioni o se c'è qualche problema o qualsiasi cosa. Ringraziamo ancora Ascanio Celestini per questa bellissima intervista e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Perfetto. Ciao. Ciao.